Aprile è il mese della consapevolezza dello stress. La salute mentale è uno stato di benessere in cui si è in grado di far fronte allo stress quotidiano della vita. Non importa chi sei, la tua salute mentale conta. Elko alcune semplici cose che puoi fare per ridurre lo stress. Connetiti con altre persone. Fai esercizio fisico e mangia cibi sani. Sii gentile con te stesso. Non ascoltare troppe notizie. Fa attività che ti rendono felice. Se ritieni di averne bisogno e ne sei in grado, fatti aiutare da un professionista. Aprile è anche il mese dedicato al movimento, all'esercizio fisico. L'attività regolare migliora tutte le aree della nostra vita, previene le malattie e migliora il benessere mentale. Scegli un'attività che ti piace, che si tratti di camminare, correre o praticare uno sport. E muoviti! Attività fisica regolare. Migliora la forma fisica muscolare, cardiaca e polmonare. Migliora la salute ossea e funzionale. Riduce il rischio di cadute, oltre che di fratture dell'anca o vertebrali. Aiuta a mantenere un peso corporeo sano. Riduce il rischio di ipertensione, malattie cardiache, ictus, diabete, depressione e molti tipi di cambio.